Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ritorno ancora sull'affirmazione «Credo la risurrezione della carne». Si tratta di una verità non semplice e tutt'altro che ovvia. Perché, vivendo immersi in questo mondo, non è facile comprendere le realtà future. Ma l'Evangelo ci illumina. La nostra risurrezione è strettamente legata alla risurrezione di Gesù. Il fatto che Egli è risorto è la prova che esiste la risurrezione dei morti. Vorrei allora presentare alcuni aspetti che riguardano il rapporto tra la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione. Lui è risorto e perché Lui è risorto anche noi risusciteremo. Anzitutto, la stessa Sacra Scrittura contiene un cammino verso la fede piena nella risurrezione dei morti. Questa si esprime come fede in Dio, creatore di tutto l'uomo, anima e corpo, e come fede in Dio liberatore, il Dio fedele all'alleanza con il suo popolo. Il profeta Ezechiele, in una versione, contempla i sepolcri dei deportati che vengono riaperti e le ossa aride che tornano a vivere grazie all'infusione di uno spirito vivificante. Questa visione esprime la speranza nella futura risurrezione di Israele, cioè nella rinascita del popolo sconfitto e umiliato. Gesù, nel Nuovo Testamento, porta a compimento questa rivelazione e lega la fede nella risurrezione alla sua stessa persona. E dice, io sono la risurrezione e la vita. Infatti, sarà Gesù, Signore, che risusciterà nell'ultimo giorno quanto avranno creduto in Lui. Gesù è venuto tra noi, si è fatto uomo come noi in tutto, eccetto il peccato. In questo modo ci ha presi con sé nel suo cammino del ritorno al Padre. Egli, il Verbo incarnato, morto per noi e risorto, dona ai Suoi disceppoli lo Spirito Santo come caparra della plena comunione nel suo Regno glorioso, che attendiamo vigilanti. Questa attessa è la fonte e la ragione della nostra speranza. Una speranza che, se coltivata e custodita, la nostra speranza, se noi la custodiamo, diventa luce per illuminare la nostra storia personale e anche la storia comunitaria. Ricordiamolo sempre, siamo discipoli di colui che è venuto, viene ogni giorno e verrà alla fine. Se riuscissimo ad avere più presente questa realtà, saremmo meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell'effimero e più disposti a camminare con cuore misericordioso sulla via della salvezza. Un altro aspetto. Che cosa significa ressuscitare? La Ressurrezione di tutti noi avverrà nell'ultimo giorno, alla fine del mondo, ad opera dell'onipotenza di Dio, il quale restituirà la vita al nostro corpo, riuniendolo all'anima, in forza della Ressurrezione di Gesù. E questa è la spiegazione fondamentale. Perché Gesù è risorto, noi risusciteremo. Noi abbiamo speranza nella Ressurrezione perché Lui ci ha aperto la porta. Ci ha aperto la porta a questa Ressurrezione. E questa trasformazione in attesa, in cammino alla Ressurrezione, questa trasfigurazione del nostro corpo viene preparata in questa vita dal rapporto con Gesù, nei sacramenti, specialmente l'Eucaristia. Noi, che in questa vita ci siamo rinutriti del Suo corpo e del Suo sangue, ressusciteremo come Lui, con Lui e per mezzo di Lui. Come Gesù è risorto con il Suo proprio corpo, ma non è ritornato ad una vita terrena, così noi risorgeremo con i nostri corpi che saranno trafigurati in corpi gloriosi. Ma questa non è una bugia, eh? Questo è vero. Noi crediamo che Gesù è risorto, che Gesù è vivo in questo momento. Ma voi credete che Gesù sta vivo, che è vivo? Ah, non credete, eh? Credete o non credete? E se Gesù è vivo, voi pensate che Gesù ci lascerà morire e mai ressuscitare a noi? No! Lui ci aspetta. E perché Lui è risorto, la forza della Sua risurrezione ci risusciterà a tutti noi. E già in questa vita noi abbiamo una partecipazione alla risurrezione di Cristo. Se è vero che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che per un certo aspetto con Lui già siamo risuscitati. La vita eterna incomincia già in questo momento, incomincia durante tutta la vita verso a quel momento della risurrezione finale. E già siamo risuscitati. Infatti, mediante il Battessimo, siamo inseriti nella morte e resurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita nuova, che è la vita di Lui. Pertanto, in attessa dell'ultimo giorno abbiamo in noi stessi un seme di resurrezione, quale anticipo della resurrezione piena che riceveremo in eredità. Per questo anche il corpo di ciascuno di noi è risonanza di eternità. Quindi va sempre rispettato e soprattutto va rispettata e amata la vita di quanti soffrono, perché sentano la vicinanza del Reino di Dio, di quella condizione di vita eterna verso la quale camminiamo. E questo pensiero ci dà speranza. Siamo in cammino verso la resurrezione. E questa è la nostra gioia. Un giorno trovare Gesù, incontrare Gesù, e tutti insieme, tutti insieme, non qui in piazza, in altra parte, ma gioiosi con Gesù. E questo è il nostro destino. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie.